Guardalo tu, no, la bolla si stacca di qui. Quando io dico sopra e sotto, quando io dico in avanti e sopra e sotto, intendo il cerchio, dove si stacca la bolla, capito? Io qui posso staccare in uno, due e tre, di qui non la posso staccare perché ho la mano, è chiaro.